Talina sta eseguendo un taglio scalato, la DNA solo seria. Vediamo quello che può spiegare. La ragazza non è carina, però il taglio verrà molto bene. Anche la signora vecchietta, ma i tagli li fa veramente bene. Guardate come tiene le forbici, non sembra neanche lei. Guardatela, è unica veramente, guardate le forbici. Facciamo vedere come si lavora da DNA, fai vedere come i tagli, brava, non trema neanche, perché tante tremano. Guardatela, divide il capello, lo divide per due e lo divide agli scepoli. Guardate che brava. Quella è mia cognata, si mette con le labbra così, perché vuole che tutti quanti la guardano. Bravissima Natalina, sembri quasi tu. Adesso vi faccio vedere la mia cognatina, guardatela che bella, guarda quando ride poi. Che sensualità, che sensualità, adesso vediamo, vediamo lei, la Natalina è unica, guarda, tira i capelli all'insù, attenzione alle dita, complimenti. Non guardate come è fatta lei, guardate come taglia, che tutto. Guardate la mia cognatina come seria. Guardate che bella quando ride, guardate che sorriso d'Urbanz. Ebbè, troppo carina, adesso ha riso. Adesso prendiamo i capelli di Natalina, guardate si è messa con musetto la mia cognatina. Ebbè dai, bravissima. E questo, da DNA, i tagli sono di serie A, peccato quella che è sotto. Però la faremo diventare bellina, vedi, il musetto all'insù, beato, ecco qui, Natalina in gamba, eh. Sì, c'è una gamba, diciamo. La mettiamo di qua, Natalina. È arrabbiata perché quando lei la chiami vecchiaccia, si arrabbia. Forse la più bella cosa che vedete sono io che riprendo, vero? Adesso la riprendo da lontano. Natalina adesso va in bagno. Li vuole lisci, la Anna, perché stasera forse deve uscire. Facciamogli un primo piano, ragazzi. Ecco qui, guardate come rile, salute col tuo sorriso d'Urbanz. Guardate che carino, guardate che carino. Adesso ha fatto tipo uno sguardo. Giorgio, saluta Giorgio. Ebbene. Salutato Giorgetto. Adesso vi saluto perché annuncia. Guarda, guarda come si è messa col musettino lì. È tutto un programma quel muso. Adesso chiudiamo la telefonata. È meglio, dice lei. Ma guarda, guarda, guarda che carina con le mani negli occhi. Guarda, 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 guarda Natalina che bella con la parrucca bionda. Vabbè, dai. Ok, arrivederci.